tecniche, passi e movimenti che si eseguono nella danza orientale, tranne uno, non dovete dirlo per non prendere la scossa. Comincia il nostro campione, Simone. Devo dire quello che non c'è. Ma sei arrivato adesso tu? Non è gesto tecnico, quello che è un gesto tecnico è la risposta. Allora, qui siamo all'eredità, all'eredità. Noi facciamo una domanda, va bene? Lo so, e tu non devi dare la risposta esatta perché altrimenti prendi la scossa. Questa è doppia negazione, devo dare un passo della danza. Oh, Stelio, non fare lo stupido. Uno di questi non è, non è, sembro sgarbi quando, non è, un gesto tecnico che si eseguenta la danza orientale. Prego. Arabo. Scossa.